E' un contatto elementare. Che cos'è l'abacomansia? Commento. E' un contatto elementare con i piani superiori di esistenza, in genere con il piano astrale. E' detta anche tabellomansia. Pratiche simili sono la ritmomansia, la caffeomansia e altre mantiche. Sono qui con me. Non fare così, vai direttamente a tutti. Vi ringraziano per la meraviglia meravigliosa l'esperienza che lì ha fatti sentire esseri sentienti. Grazie.